E te? Ti devo manare A me? Quando? Adesso, mi bruttono le mani Adesso mi devi manare Facciamo la cosa, mi vieni dopo Adesso andiamo a vedere i treni, va bene? Adesso andiamo a vedere i treni I treni, qua c'è la stazione qua vicino andiamo a vedere i treni Dopo ti sponno Dopo, dopo, dopo Ora andiamo a vedere i treni qui Andiamo a vedere i treni Dopo Adesso andiamo a vedere i treni Adesso i treni E dopo ti apro la fase